Ciao a tutti amici di autoprove.it e benvenuti a questo focus dedicato al sistema di infotainment e alle tecnologie della nuovissima Polestar 2 Model Air 2024 Eccola qua la Polestar 2 2024, trovate già sul canale la prova su strada completa in questo focus mi concentro sulle tecnologie, sono veramente tante voglio partire dalla chiave molto bella, molto minima attraverso la quale gestiamo le principali funzioni, quindi blocco sblocco portiere, apertura bagagliaio e qui c'è un tasto di emergenza molto molto bello il frontale dominato dai nuovi fari anteriori full led con tecnologia pixel, questi sono gli opzionali ci permettono un'ottima intensità perché abbiamo sempre il massimo fascio luminoso in tutte le condizioni, viaggiamo sempre con gli abbaglianti impostati non disturbiamo i veicoli che ci precedono o provengono in senso contrario molto belle anche queste DLR led a martello di Thor, integrano perfettamente le frecce direzionali qua sotto abbiamo i fendi nebbia, anche loro led molto utili in fase di svolta Model Air 2024 significa calandra completamente rivista, adesso chiusa in colore carrozzeria molto molto bella, al centro troviamo la videocamera per la visione frontale il radar per il funzionamento dei tanti sistemi di sicurezza e assistenza alla guida dei quali sto per andare a parlarvi e poi il logo Polestar qua sopra in colore carrozzeria e un badge che ci ricorda lo sviluppo specifico che è stato fatto per questa 2 mi porto poi sulla fiancata, questa è la top di gamma, long range con la batteria quindi potenziata da 82 kWh ma anche il performance pack, guardate quanto sono belli questi cerchi lega da 20 pollici con disco forato, pinza dorata Brembo a 4 pistoncini veramente le prestazioni sono al centro di questo progetto mi porto qui sul parabrezza, abbiamo ovviamente il radar frontale e quassù una vera e propria chicca, non so se si vede ma c'è la stella Polestar retroilluminata visibile anche di giorno, di notte vi assicuro sia fuori che dentro lo spettacolo è notevolissimo mi porto sulla fiancata a mostrarvi una vera e propria chicca che sono questi specchietti esterni veramente molto molto belli perché sono scorniciati quindi guardate il dettaglio, l'attenzione al dettaglio veramente pazzesca qui dentro c'è anche la luce led che ci avvisa quindi come blind spot della presenza di veicoli o motoveicoli in avvicinamento laterale sono spettacolari, bellissimi con qua sotto la videocamera per la visione perimetrale maniglie porta belle, massicce, veramente un design che lascia il segno le preferisco a quelle a scomparsa, sono molto belle e integrano sia davanti che dietro la luce di cortesia badge laterale che ci avvisa dei pericoli nello sfidare questa Polestar 2 specifica perché appunto top di gamma 350 kilowatt, 475 cavalli e batteria da 82 kilowattora nominale effettivi sono 79 quindi una bella batteria si carica da qui, la presa si trova quindi sul lato conducente come notate è una presa che supporta evidentemente sia corrente alternata che corrente continua in continua arriviamo ben 205 kilowatt per una ricarica che viaggia velocissima pensate dal 20 all'80 per cento in appena 30 minuti uno sguardo al retrotreno spettacolare questo fanalone posteriore ha tutta ampiezza ha un effetto veramente notevole quando si chiude la vettura vedete il fascio va a dissolversi con un effetto molto molto caratteristico e personale lo stesso accade nel momento in cui apriamo l'auto il full led evidentemente anche posteriore qua dietro in basso abbiamo la retrocamera si trova all'altezza della targa forse ecco un po' in basso quindi in alcune situazioni la visione che ci restituisce non è chiarissima guardate quanto è bello poi questo l'unotto praticamente non ha guarnizioni non ha il tergi è veramente spettacolare integra il terzo stop resta presente l'antenna antenna a pinna di squalo che basta a gomare con questa sezione il nostro tetto a tutta ampiezza ingresso keyless teniamo comodamente la chiave in tasca e accediamo all'interno dell'abitacolo ed eccolo qua l'abitacolo di questa Polestar 2 basta salire all'interno dell'abitacolo l'auto si attiva da sola quindi c'è un sensore di prossimità proprio sotto al sedile del conducente non c'è da schiacciare nessun tasto la vettura si accende si anima da sola quindi possiamo comodamente riporre la chiave vi faccio dare subito uno sguardo all'attenzione al dettaglio che è tanta sia fuori che dentro il dettaglio di questi specchietti esterni scorniciati vi facevo vedere sono veramente spettacolari il dettaglio di questa plancia di questi pannelli porta di tutto l'abitacolo che è stato rifinito in maniera maniacale le plastiche sono tutte morbide ben assemblate peraltro qui abbiamo un abitacolo con materiali riciclati e vegani quindi c'è un'attenzione pazzesca alla sostenibilità e all'ambiente con un feedback notevole guardate questa finitura quanto quanto è bella e valorizza l'abitacolo abitacolo nel quale ci troviamo immersi da subito in un'atmosfera estremamente tecnologica guardate quanto è bello questo volante multifunzionale particolarmente massiccio nell'impugnatura le informazioni però non vengono nascoste abbiamo un'ottima visibilità del quadro strumenti completamente digitale avrete notato non c'è l'head up display ma devo dire l'impostazione di guida la posizione di guida è molto buona quindi le informazioni le troviamo tutte nel nostro quadro strumenti digitale volante multifunzionale completamente rifinito in pelle cucitura a vista lato sinistro gestiamo i sistemi di sicurezza e assistenza alla guida in particolare cruise control adattivo lato destro invece dedicato ai media quindi comando vocale in questo caso l'assistente è griffato google sto per farvi vedere gestione del quadro strumenti quadro strumenti vi dicevo completamente digitale abbastanza minimal nell'impostazione grafica quindi vi dico non possiamo andare a configurare le informazioni visualizzate questa è la schermata che preferisco abbiamo quindi i sistemi ADAS qui l'ultimo limite di velocità la velocità alla quale stiamo viaggiando dinamica di funzionamento generale quindi stiamo ricaricando la batteria stiamo chiedendo energia al sistema l'autonomia espressa sia in chilometri residui che in percentuale una schermata che dico estremamente chiara possiamo poi intervenendo qua sul volante richiamarne di altre quindi avere ad esempio la navigazione navigazione che vedete anche qui griffata google estremamente precisa in tutte le informazioni che ci va a dare evidentemente anche lei connessa in rete con questi selettori qua invece gestiamo il volume dei media che andiamo ad alzare e abbassare switchiamo fra i vari media in riproduzione insomma tutto abbastanza lineare a me piace comunque che queste grafiche vedete siano particolarmente chiare con informazioni poche ma estremamente precise e poi che dire del protagonista di questa plancia ovvero il sistema di infotainment touch da 11,2 pollici 11,2 pollici che secondo me sono giusti quindi non abbiamo un padellone uno schermo esagerato come spesso accade ma uno schermo disposto in verticale semplice anche lui chiaro lineare tutte le informazioni sono a portata di mano noterete che è poi sovrastato dall'impianto audio anche lui opzionale Arman Kardon con le bocchette per il clima che si trovano lì non affiancheggiare lo schermo ma che devo dire ci restituiscono comunque un'ottima efficacia impostazione del sistema di infotainment estremamente facile perché vedete tutto molto chiaro anche perché questa vettura nasce con android automotive quindi non è android auto ma è android automotive quindi il sistema sviluppato proprio da google è dedicato al comparto auto ci sono pochi setting qua in alto li richiamiamo immediatamente quindi la visione delle camere a 360 gradi il setting per quanto riguarda la vettura questa è la home con tutte le applicazioni e poi qui i profili utente profili che sono molto utili perché se ad esempio andiamo a condividere l'auto in famiglia possiamo una volta saliti a bordo andare a richiamare il nostro e quindi trovare ad esempio la seduta di guida già regolata sulla nostra posizione perché vedete qua ci sono le memorie quindi basta semplicemente registrare il tutto nel sistema e l'auto ci riconoscerà appena all'interno dell'abitacolo vi faccio vedere subito la dinamica generale vedete un sistema fluido, intuitivo pochi i comandi tutto è molto chiaro navigazione affidata a google map a me questa cosa piace tantissimo perché devo dire che se c'è una ragione per la quale uso il mirroring è proprio quella di poter avere la navigazione di google in auto a portata di mano in questo caso di serie quindi già arriva con la vettura estremamente fluida, intuitiva guardate qua che velocità veramente notevole che riesce ad avere possiamo qui poi attraverso le impostazioni richiamare ad esempio la visione satellitare come quella dello smartphone con una fluidità impressionante la cosa che vi devo dire però che mentre qui dall'infotainment possiamo avere anche la visione satellitare qui invece dal quadro strumenti avremo sempre la visione più classica poco male perché secondo me distrae anche meno quindi da google map possiamo richiamare evidentemente le stazioni di ricarica più vicine possiamo programmare il nostro viaggio anche in funzione di parcheggi, ristoranti, luoghi di interesse tutto è veramente fruibile e a portata di mano torno qui vi faccio vedere abbiamo anche youtube a bordo della vettura quindi grazie al modulo dati di bordo il sistema di infotainment è connesso in rete ci permette quindi di accedere alla navigazione connessa di google map ma ci permette anche di accedere a youtube quindi ad esempio a vettura ferma come ad esempio a vettura in carica possiamo andarci a vedere un bel video dal canale youtube di autoprove.it tutto veramente veramente fluido guardate che velocità che ha questo schermo questo sistema torno indietro abbiamo poi qui il setting delle performance launch control ci si diverte tantissimo 0-100 in 4,2 secondi andatevi a vedere la prova su strada completa l'indicatore della forza G torno sempre indietro qui abbiamo l'assistente vocale google raccontami una barzelletta l'atteggiamento è molto importante se sei un cavallo tutto dipende da come ti poni e insomma google è sempre un gran burlone però oltre a questo chiaramente tramite l'assistente vocale possiamo gestire la navigazione possiamo gestire il climatizzatore tutto è veramente a portata di mano l'indicatore della qualità dell'aria sia all'interno che all'esterno dell'abitacolo l'assistente autonomia qui abbiamo vedete indicazioni dettagliate di come stiamo operando se effettivamente la nostra guida e come meglio la nostra guida sta incidendo sull'autonomia residua telefono apple carplay perché chiaramente il sistema è nativo android automotive però chiaramente supporta anche la connessione con i nostri iphone e poi qui la radio che è anche una radio digitale è tutto veramente semplice e a portata di mano torno indietro per farvi dare uno sguardo alle altre schermate qui abbiamo ad esempio le informazioni per quanto riguarda la vettura veniamo infatti al capitolo sistemi di sicurezza e assistenza alla guida e ce ne sono tantissimi a bordo di questa Polestar 2 guida autonoma di secondo livello c'è un pacchetto dedicato ai sistemi di sicurezza e assistenza alla guida vi consiglio di sceglierlo costa circa 4.000 euro le dotazioni sono tantissime blind spot vi facevo vedere prima cruise control adattivo sistema di mantenimento attivo del centraggio corsia e poi ancora riconoscimento dei segnali stradali con ultimo limite e poi frenata automatica d'emergenza con riconoscimento pedoni e ciclisti sensore alert per il traffico posteriore super importante soprattutto nelle fasi di uscita parcheggio notate lì abbiamo comunque un 1.8 piccolino inclinato montanti estremamente generosi poggia testa che non sono completamente abattibili c'è un angolo cieco estremamente importante quindi ci aiuta il sistema di telecamere a 360 gradi la risoluzione è elevatissima gestiamo ogni singolo angolo dell'auto senza problemi possiamo poi andare a zoomare sulle singole camere quindi quella frontale le due camere laterali la retrocamera insomma la visuale è estremamente nitida ci sono poi linee di manovra e funzione di parcheggio automatica il tutto poi vedete può essere gestito direttamente da qui andando a regolare ad esempio le principali impostazioni quindi l'auto ci aiuta tantissimo e questo sicuramente è importante perché non c'è solo l'angolo cieco posteriore ma c'è anche quello anteriore perché la posizione di guida resta da berlina è vero c'è un po' un look cross over ma la posizione di guida resta da berlina abbastanza accovacciata e quindi noi lì davanti effettivamente abbiamo un angolo cieco importante torno qui a mostrarvi poi gli altri setting guida perché la caratteristica di quest'auto è quella di non avere modalità di guida tutto è estremamente lineare l'auto legge quelle che sono le condizioni della strada legge anche quelle che sono le nostre intenzioni potremmo dire in un certo senso quindi non ci sono modalità di guida tra le quali scegliere sport estreme e così via tutto è abbastanza standard l'auto si regola in funzione della pressione che andiamo a dare sul pedale dell'acceleratore possiamo però scegliere la risposta dello sterzo leggero, normale, intenso quindi avremo uno sterzo più o meno diretto più o meno capace di direzionare in maniera rapida la vettura questo utile soprattutto nel passaggio urbano extraurbano disattivazione dell'SC e qua sotto la one pedal drive quindi la modalità che ci permette di lavorare esclusivamente col pedale dell'acceleratore schiacciamo, rilasciamo l'acceleratore al rilascio quindi l'auto attiva la frenata rigenerativa che si fa via via più intensa fino ad arrestare completamente la vettura possiamo scegliere chiaramente l'apporto io la preferisco quindi la lascio su normale creep è una modalità vedete tradotto poi marcia lenta una modalità dedicata ai parcheggi perché comunque questa è un'auto che ha dimensioni esterne abbastanza importanti 1,85 m di larghezza ben 4,60 m di lunghezza quindi oggettivamente posteggiare in città in alcune situazioni può essere complesso farlo con 476 cavalli può esserlo ancora di più quindi questa modalità qua praticamente riduce la velocità in maniera artificiale in fase di parcheggio e ci aiuta quindi a non avere impatti qua c'è poi la schermata dedicata a tutti i sistemi di sicurezza e assistenza alla guida possiamo poi configurare la loro risposta possiamo poi insomma andare a disattivarli vedete ad esempio quanto questo dettaglio sia comodo perché soprattutto un sistema come il mantenimento attivo del centro corsia può risultare invasivo noi possiamo gestirne la risposta e quindi evitare che effettivamente sia troppo invasivo e distragga distolga l'attenzione dalla guida carica qui invece abbiamo la schermata dedicata alla ricarica della vettura possiamo anche preservare la batteria nel tempo impostando un livello di carica massima possiamo evidentemente programmare la ricarica possiamo quindi gestire comunque tutte queste funzioni anche attraverso l'applicazione dedicata a Polestar che è estremamente comoda in altro poi vedete abbiamo tutta una serie di altre impostazioni quindi ad esempio gestiamo le luci interne che sono comunque optional in questo caso vedete non abbiamo la possibilità di scegliere il colore possiamo scegliere l'intensità si iniziano a notare corrono qua dietro sulla plancia qui intorno alla sezione del tunnel centrale sono molto carine però insomma a differenza di altri marchi non abbiamo la possibilità di scegliere il colore ma soltanto l'intensità carica wireless insomma tutto è estremamente intuitivo con questa grafica molto fluida da altro vedete si accede anche al tasto magico spegnimento automobile perché effettivamente vi dicevo noi saliamo nell'auto e lei si prepara a partire ma non c'è un tasto fisico di accensione o spegnimento si accede da qui tornando poi indietro vi faccio vedere comunque qui abbiamo il Play Store quindi lo store di Google attraverso il quale possiamo scaricare delle applicazioni così come accade sugli smartphone e qui in impostazioni gestiamo tutti i vari setting quindi la connessione di reti e il modulo dati di bordo che è utilissimo perché vi dico la scorsa notte io ho lasciato l'auto in aggiornamento quindi ho programmato l'aggiornamento della vettura e lei automaticamente lo ha eseguito installandolo anche perché quella è un'attività che ci porta a non poter usare l'auto quindi è comodo il fatto di poter programmare questi interventi che ci vengono segnalati vedete direttamente qui in stato vettura qui dalle impostazioni gestiamo anche il setting dell'impianto audio l'impianto audio Armand Kardon opzionale veramente molto molto bello un accessorio che vi consiglio perché restituisce un feedback estremamente immersivo e poi cosa rarissima vedete c'è il setting su tutti i parametri quindi qua attivando l'equalizzatore avanzato andiamo su tutte le singole voci brava brava Polestar questo sistema di infotainment è veramente spettacolare mi porto poi a mostrarvi il resto dell'abitacolo qui abbiamo lo slot per la ricarica wireless dello smartphone con superficie inferiore gommata qui abbiamo due begli ingressi USB per la ricarica dello smartphone sono due USB tipo C superficie gommata anche qui il problema vero è che se io qui ho inserito un oggetto effettivamente poi non riesco ad accedere in maniera così agevole ai due ingressi USB un bel rotore per la gestione dei media qui abbiamo poi i tasti per la gestione del clima che possiamo richiamare semplicemente così vedete poi la paginata dedicata appunto al clima bizona quindi sia conducente che passeggero anteriore scelgono insieme o individualmente la temperatura c'è poi la possibilità di riscaldare su tre posizioni il sedile lato conducente, lato passeggero anteriore e anche il volante vi faccio vedere poi il dettaglio di questa bellissima leva del cambio retroilluminata griffata Polestar è veramente pazzesca e noterete l'ingombro generale del tunnel centrale è abbastanza importante questo direi è un tunnel centrale più da SUV, più da crossover che da berlina è veramente ingombrante abbiamo poi qua un bel portabottiglie bicchieri abbiamo poi qua un bel bracciolo centrale in realtà questo è un bracciolo intelligente perché vedete può scorrere in avanti al suo interno si nasconde un altro bel portabottiglie bicchieri quindi insomma dipenderà un po' da noi la gestione di questo spazio vi faccio vedere poi i sedili vi dicevo materiali riciclati, materiali vegani sono veramente bellissimi un tessuto che restituisce un feedback al tatto veramente spettacolare l'attenzione al dettaglio di queste cinte dorate guardate qua, brava brava Polestar non ti sei scordata le tue origini in casa Volvo e poi guardate quanto sono belli i pannelli porta integrano l'impianto audio Armand Cardon con questo dettaglio non posso che mostrarvelo le bocchette del clima che restituiscono un feedback veramente bello il cielo dell'auto spettacolare completamente in vetro raggiunge anche la testa degli occupanti della seconda fila di sedili circondato dalle luci che sono quelle anche posteriori led veramente bello e qui su vi faccio vedere la chicca della stella logo Polestar visibile anche di giorno bello questo cielo dell'auto qui plafoniera completamente led con feedback touch non poteva il retrovisore interno essere anche lui scorniciato e quindi anche lui rinuncia alle cornici molto belle le alette qui interne abbiamo comunque gli specchi dedicati qua dietro non mancano due belle bocchette per il clima due begli ingressi USB tipo C per la ricarica degli smartphone qua dentro e poi c'è la possibilità anche qui di riscaldare su tre posizioni i sedili posteriori sedili posteriori che non rinunciano ai poggiatesta quelli laterali non sono a scomparsa e poi la chicca di queste cinture dorate che troviamo anche dietro questo allora era il focus dedicato al sistema di infotainment e alle tecnologie della nuovissima Polestar 2 Model Year 2024 adesso però come sempre voglio sentire la vostra ditemi tutto qua nei commenti è più o meno tecnologica della sua rivale di sempre Tesla Model 3 ditemi tutto nei commenti perché leggo e rispondo volentieri a tutti prima di salutarci però l'invito è quello solito andate a curiosare su tutti i vari social di autoprove.it tutti i vari Facebook, Twitter, Instagram e seguite il blog che è sempre aggiornato con le ultime novità e curiosità dal mondo dei motori ma soprattutto iscrivetevi a questo canale YouTube perché ci troviamo sempre qui per il prossimo video ciao